Partiranno a breve a Donete i lavori per la sistemazione delle scuole elementari. Perché questi lavori? Qual è l'obiettivo dell'intervento? Il primo obiettivo dell'intervento è quello di ridurre in assoluto il dispendio energetico che ha la scuola di Donete, che è stata costruita con dei criteri di 30 anni fa e che quindi non sono più adeguati all'attuale. E un criterio di sicurezza. C'erano delle vetrate che erano pericolanti e grazie al contributo della Regione Lombardia fatto proprio sul questione della sicurezza abbiamo avuto un contributo che ci permette di cambiare tutti i serramenti della scuola alimentare. A quanto ammontano i lavori e il contributo della Regione quanto copre? Il contributo della Regione copre l'80% dei costi che sono 55.000 euro per cui il Comune di Unita proprio deve mettere intorno ai 17.000 euro per questo intervento. I lavori inizieranno entro il 30 novembre perché questa è la disposizione di legge per non perdere i contributi. La parte più grossa per non impattare troppo sul lavoro scolastico, sui bambini però infatti durante le vacanze di Pasqua dovrebbero concludersi durante le vacanze. Intanto l'amministrazione ha acquistato anche uno scuola bus. Sì, anche questo è stato acquistato grazie ai fondi regionali. L'obiettivo non è tanto quello di avere uno scuola bus in proprio, ci sarà una cogestione con gli autoservizi che già fanno questo lavoro. Questo però ci permette di abbassare i costi e quindi di mantenere il costo per ogni famiglia, per i bambini il costo dell'abbonamento, mantenerlo invariato nonostante siano un po' di anni che il contributo sia fisso. Il primo obiettivo è mantenere per le famiglie i costi sopportabili, il resto lo metterà l'amministrazione. Un servizio importante per un paese abbastanza sparso. Sì, il problema del trasporto è fondamentale insieme a quello della scuola. Il costo per le famiglie è notevole e soprattutto il sacrificio, perché è ovvio che mettere un bambino anche piccolo alle 7 del mattino su un autobus rispetto ad avere la scuola fuori casa è un sacrificio proprio della famiglia intera, oltre che un costo economico, per cui almeno riuscire a contenere il costo economico è il minimo che l'amministrazione possa fare. Grazie